Per rinnovare il permesso di soggiorno per motivi familiari o per rinnovare il permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per rinnovare il permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato. Cosa devi fare? Devi andare a un patronato sia il CAF o qualcuno che ha la competenza di poter compilare questo modulo del kit perché ci sono modulo 1 e modulo 2. Per quelli che hanno il permesso di soggiorno per motivi familiari, dopo che sei andato alla posta hai ritirato il kit postale per rinnovo del permesso di soggiorno per motivo familiare. La prima cosa che devi fare è la copia del tuo passaporto del paese dell'origine. La seconda cosa devi fare è la copia del tuo permesso di soggiorno che è in scadenza, copia della tua carta d'identità se sei in possesso e copia del tuo codice fiscale. Non solo devi fare la copia del certificato di residenza se non hai la copia del certificato di residenza e quindi puoi allegare anche il certificato ospitalità. Copia del certificato di residenza, copia del certificato di stato di famiglia, modello reddito 730 modello CUD o modello unico. Tassa di pagamento per il rinnovo del permesso di soggiorno da 80 euro, 0,46 centesimi. Una marca da bollo da 16 euro e 4 fototessera per quelli che devono rinnovare il permesso di soggiorno per motivo familiare. Questi sono i documenti che servono a voi. Una volta che hai avuto tutti questi documenti, devi andare a CAF o una persona competente che può compilare il tuo kit. Compila il kit, metti tutte le copie dei documenti che ho menzionato nel passato dentro il kit, torni alla posta, spedisci questo kit. Una volta la spedizione effettuata, la posta ti daranno una ricevuta che si chiama la ricevuta di ritorno. Questa ricevuta ti permette di lavorare qui in Italia, di stare qui in Italia legalmente e puoi firmare qualsiasi tipo di contratto, sia di lavoro che di affitto. Puoi fare tutto ciò che qualcuno con il permesso di soggiorno valido, tutto ciò che può fare con il suo permesso di soggiorno qui in Italia, tu con la ricevuta puoi fare la stessa cosa. Ma ci sono delle cose che non puoi fare. Con la ricevuta non puoi lasciare il territorio nazionale di Italia andare a un altro paese europeo. La ricevuta non ti consente di farlo. Puoi andare al tuo paese di origine con la ricevuta, con il permesso di soggiorno scaduto e il tuo passaporto in corso di validità. Se devi andare al tuo paese di origine, puoi andare solamente con il volo diritto. Non puoi fare la scala in nessun paese dell'Unione Europea o nel Sengen. Non puoi fare le scale in nessun altro paese del Sengen o dell'Unione Europea. Ma andando al tuo paese dell'origine, puoi fare lo scalo sia in Marocco che in Istanbul. Al ritorno devi fare la stessa cosa. Mi raccomando, per andare la vacanza con la ricevuta, non devi superare più di 3 mesi, 90 giorni perché nella tua ricevuta c'è scritto la data e l'ora di cui devi andare a fare l'impronta digitale per l'appuntamento, per il tuo permesso di soggiorno elettronico. Questo è tutto per i colori che hanno il permesso di soggiorno per motivi familiari. Credo che questo video vi sia piaciuto. Mettetemi like e seguitemi, così avrete tante notizie per gli altri video. Grazie mille a tutti.